Ciao ragazzi, è il momento di tornare in pista all'Extrema Car Speedway. Perché? Perché domenica 10 aprile 2022 alle ore 9 partirà la seconda stagione dell'Extrema Sprint Series by Futura Corsa. Che cos'è l'Extrema Sprint Series? E' il campionato ufficiale del cartodromo Extrema Car Speedway. Quindi tutte le tappe si svolgeranno lì. Ma per chi è, Nicola, questo Extrema Sprint Series? Per tutti! Esatto, per tutti! Nessuno escluso, perché in questo campionato ci sono esattamente quattro formule che correranno in maniera distinta a sé, quindi non mischiate. Ogni formula andrà in base all'esperienza del pilota. Come si chiamano queste quattro formule? Sport, Amateur, Rookie ed Easy. Con cosa si correrà in questo campionato? Con un Gokar CRG Rental di nuovissima generazione. Ma non è finita qua! Abbiamo una sorpresona! Per chi ha esperienza già molto elevata nelle categorie cartistiche Rental, daremo a disposizione, per chi vuole, l'FC competizione. E se arriveremo a 10 piloti, dico bene, 10 piloti di Formula Sport, chi correrà nella Formula Sport, correrà con gli FC competizioni, veri e propri car di competizione da derivazione Gokar BRM. E quali sono i costi? Per quanto riguarda le categorie Amateur, Rookie Easy, correndo col CRG o comunque correndo col CRG in generale, costa 60 euro a tappa. Invece chi correrà con gli FC competizioni pagherà 90 euro. Ci sono costi di iscrizione al campionato? Sì, certo! Il costo di iscrizione è pari a 20 euro, che è comprensivo della tercera ASI 2022. In più, dico anche questa cosa qua, ogni gara avrà regole speciali e regole bellissime da rendere sempre unico ogni tappa di questo campionato. In più ci saranno due commissari, servizio fotografico dedicato, è una live che quest'anno sarà ancora a livelli più elevati di quella che era l'anno scorso, ok? Quindi potete seguire i vostri beniamini. In più ci sarà una trasmissione dedicata durante proprio l'evento stesso, è un'area di interviste per i piloti, ok? In più, in più e dico sempre in più ragazzi, i piloti che parteciperanno all'Extrema Sprint Series a fine dell'anno 2022 parteciperanno ad una gara unica, i migliori tre di ogni formula, ma poi questo lo scoprirete più avanti. Ma come faccio ad iscrivermi? Semplicissimo Nicola, basta che vai sul sito internet www.futuracorso.it nella sezione campionato Xtrema Sprint Series, compili il modulo e sei registratto. Oppure, ma se non vuoi fare la fatica di andare sul sito internet, manda un'email a futuracorso.it che ti risponderemo e ti spiegheremo come effettuare l'iscrizione al campionato. Detto questo ragazzi, quindi non perdetevi, segnatevi la data domenica 10 aprile ore 9, parte il campionato ufficiale di Xtrema Car Speedway, cioè l'Extrema Sprint Series, e chi arriverà nei primi tre posti di ogni formula, poi parteciperà a un evento unico con un premio veramente, veramente molto speciale. speciale!